Oh, stamattina c'era un ragazzino lì alla scogliera, registro così, per i posteri, tra cent'anni e quaranta, guardano la gente che c'era. C'era un ragazzino che andava con la tua shirt in giro. Dico, ma uno chiede gli scusa, ma non è freddo? Se c'è i bollori, se c'è i bollori, se c'è i bollori, se c'è i bollori, per me andava giù in fondo a canoneggiare, poi tornavano alla scuola, che senso c'è andare fino a canoneggiare? È un'età.